VITAMOZUO gruppi telegram fissati nel primo commento Hola ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video su VITAMOZ ragazzuoli ci riporto un outfit da tryhard no non è il vostro pc o telefono che si vede male ho messo il visore siamo in compagnia di Luca Mods perchè adesso vi faccio vedere ovviamente l'outfit che andremo a fare et voilà eccolo qua un bell'outfit nero e rosso da tryhardino spettacolare ovviamente facile da fare l'unico requisito che vi serve ragazzuoli è avere i joggers neri ci sono tanti modi ovviamente per averli ho portato anche i video sul canale magari vi le lascio anche in descrizione e iniziamo subito allora partiamo ovviamente da un negozio qualsiasi sulla mappa quindi indifferente poi siamo in una sessione ad inviti e ovviamente è in solo utilizzeremo solo Luca Mods per entrare nell'affare G ma potete farlo anche in solo se entrate in una pubblica allora andiamo in un negozio a questo punto entriamo andiamo subito nelle parti superiori andiamo su 13 su 58 quindi giacche tattiche e andiamo a prendere il 67 su 79 mi raccomando guardate sempre il nome e non il numero ok? perchè potrebbe non corrispondere dopodichè facciamo una volta cerchio e andiamo invece su magliette designer quindi dopo che abbiamo i joggers neri mettiamo il giubbotto andiamo su magliette designer e andiamo a selezionare questa maglietta qui mi raccomando importantissimo perchè se no non vi esce nada ne nada andiamo a mettere la maglietta nero con stampa ok? quindi nero con stampa questa qua la andiamo a selezionare io mi vado a sglicciare così almeno partiamo tutti quanti insieme dallo stesso outfit le parti superiori per il momento le vado a togliere poi ovviamente vi faccio vedere dopo come glicciarli quindi vado a elevare tutto quanto quello che c'è da levare perfetto quindi questo è l'outfit base andiamo dalle scarpe scarpe freccia destra andiamo su sneakers e andiamo a prendere le sneakers 26 su 37 ok? alte veleno perfetto a questo punto invece ci spostiamo su gli accessori andiamo a prendere anche i guanti che ci stanno benissimo su questo outfit quindi su guanti e andiamo a prendere i guanti 5 su 62 corazzati grigi e rossi che sono spettacolari per questo outfit una volta che abbiamo la base andiamo ovviamente in cassa a questo punto freccia destra e andiamo a salvare o nel primo oppure nell'ultimo slot mi raccomando importantissimo io andrò a salvare sul primo slot mi raccomando importante perché dopo ci servirà ovviamente per glitcharci ok? quindi vado a fare gg per il momento per salvare in questo modo dopo di che facciamo una volta cerchio andiamo su completi tute e andiamo a prendere il nostro completo tuta da scienziato ovviamente qualcuno già conosce questo metodo lo andiamo a selezionare a questo punto cerchio 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 ce ne andiamo in un cannocchiale qualsiasi sulla mappa ovviamente vi consiglio sempre quello sulla spiaggia si trova in questa posizione qua e ce ne andiamo verso il cannocchiale ok ragazzone una volta arrivati al cannocchiale andiamo verso il cannocchiale premiamo freccia destra touchpad premuto fino a quando uno spunto in alto a sinistra dopo di che andiamo su stile e andiamo a prendere l'outfit che abbiamo appena creato quindi gg io l'ho chiamato in questo modo cerchio 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 e ovviamente ci allontaniamo dal cannocchiale come vedete ci abbiamo glitchato la maschera da scienziato adesso andiamo a salvarla al negozio di maschere ok ragazzone una volta arrivati al negozio di maschere andiamo nella sezione qua dove ci sono le magliette premiamo freccia destra dopo di che quadrato e andiamo semplicemente a sovrascrivere l'outfit che abbiamo creato ok cerchio 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 a questo punto dobbiamo fare option online attività avviattività create da rockstar missioni e andiamo un lavoro da titano ok ragazzone una volta arrivati al lavoro da titano dobbiamo uscire con la maschera da scienziato e senza la maglietta sotto nero con stampa se usciamo in questo modo vuol dire che tutto sta funzionando alla perfezione a questo punto ragazzone andiamo in un ammunition qualsiasi sulla mappa e andiamo a salvare questo outfit ok una volta arrivati all'ammunation ci avviciniamo alla sezione degli outfit premiamo freccia destra andiamo con quadrato e andiamo semplicemente a sovrascrivere dopo di che cerchio 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 acquittiamo l'attività ragazzone una volta rientrati in sessione torneremo all'interno dell'ammunation a questo punto andiamo sulla parte sinistra quindi premiamo freccia destra dopodichè andiamo su gilet 51 su 58 andiamo a mettere il gilet nero questo qua lo andiamo a selezionare quindi 38 su 40 dopodichè facciamo una volta cerchio camice sotto gilet e andiamo a mettere questa qua rossa con banda rossa lo andiamo a selezionare dopodichè facciamo cerchio 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 e facciamo option online attività avviattività create preferite andiamo su missioni e andiamo ad avviare affare g vi ricordo che affare g lo trovate nei gruppi telegram con il comando slash affare g una volta arrivati nella lobby mi raccomando mettete abbigliamento completi salvati confermiamo le impostazioni invitiamo il nostro amico e ci mettiamo su gioca fate attenzione a questa parte se avete salvato sul primo slot premete una volta freccia destra se avete salvato sull'ultimo slot una volta freccia sinistra io ho salvato sul primo slot quindi farò una volta freccia destra e metterò su pronto a giocare arrivati arrivati nell'attività di affare g ringraziamo ancora ovviamente Luca Moz per la collaborazione nel video nonché membro staff possiamo quittare direttamente l'attività ritornati di nuovo in sessione prendiamo un nostro veicolo oppure un veicolo del cittadino è indifferente ci saliamo sopra dobbiamo diventare secure serve quindi lo rubiamo o un veicolo cittadino abbiamo il nostro è indifferent andiamo a fare ceo quindi abbiamo l'organizzazione da ceo a questo punto ragazzi dobbiamo fare ceo gestione stile una volta freccia sinistra una volta freccia destra cerchio 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 e premiamo triangolo per uscire come vedete ci ha glitchato ovviamente l'outfit a lui lo facciamo andare via ok tutto perfetto adesso ragazzuoli ce ne andiamo al negozio di maschere sulla spiaggia ragazzuoli una volta arrivati al negozio di maschere andiamo sempre nelle sezioni delle magliette e dobbiamo andare a sovrascrivere l'outfit mi raccomando se no lo andate a perdere vedete che ha glitchato anche la camicia rossa abbiamo la camicia rossa sotto quindi andiamo a sovrascrivere a questo punto lo andiamo a completare quindi dobbiamo andare nelle parti delle maschere andiamo su criminali e andiamo sul 15 su 74 andiamo a prendere questa maglietta rossa ok la andiamo a selezionare a questo punto ragazzuoli andiamo anche dovete anche acquistare questo casco io lo faccio vedere quindi sono caschi elmetti più che alto tattici andiamo a prendere e dobbiamo andare a prendere quello col visore 4 ok potete scegliere anche quello da 2 però vi consiglio molto più bello e anche molto più utile quello da 4 ok però l'importante è che ovviamente sia rosso quindi da 4 rosso questo qua io l'ho già acquistato quindi non c'è bisogno di acquistarlo voi l'acquistate e poi una volta che l'acquistate mettete prima di tutto la maschera e andate verso il cannocchiale ok ragazzone una volta arrivati al cannocchiale andiamo verso il cannocchiale premiamo freccia destra touchpad premuto a questo punto andiamo su stile andiamo su accessori andiamo su caschi e andiamo a prendere proprio il casco che vi ho fatto acquistare prima mi raccomando questo trick fatelo con la maschera ok quindi prima la maschera e poi il casco mi raccomando quindi poi facciamo cerchio 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 ci allontaniamo dal cannocchiale come vedete ci ha glitchato ovviamente il casco con la maschera adesso ritorniamo di nuovo prendiamo freccia destra touchpad premuto questa volta vi faccio vedere gli occhiali che dovete andare ad acquistare in un negozio qualsiasi sulla mappa quindi sono questi occhiali qua li trovate in un negozio qualsiasi se non ce l'avete già acquistati Outlook neri ok perché vi danno anche questi bordi bianchi quindi facciamo cerchio 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 ci allontaniamo dal cannocchiale come vedete ci ha glitchato anche gli occhiali adesso questo outfit ovviamente ce lo andiamo a salvare al negozio di maschere ok ragazzone un'altra arrivata al negozio di maschere sezione magliette mi raccomando freccia destra e andiamo ovviamente a salvarlo in qualsiasi slot io vado semplicemente a sovrascrivere e a questo punto abbiamo creato il nostro outfit da traiardino adesso ci possiamo divertire nelle sessioni ovviamente con il visore quindi per questo vi dico che questo da 4 è molto più utile andiamo a prendere ovviamente un'arma la andiamo subito a provare ovviamente è fantastico questo visore vi fa vedere anche attraverso i muri quindi è favoloso come visore ragazzuoli se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video Bella ciao ciao ciao